Cosa sbagliamo coi ragazzi e con le ragazze che abbandonano la scuola? E com'è possibile recuperarli? Relazione, educazione, e osservare, e emozioni, e scoprire, e scoprire. Sono Michela Calvelli e questo è Orizzonti Educativi, il podcast che dialoga con chi l'educazione la vive per estrarre apprendimenti dall'esperienza. Oggi esploriamo il pensiero educativo e alcuni strumenti pratici suggeriti da Ennio Ripamonti. Ennio si avvicina alle tematiche educative a metà degli anni 70 come giovane, impegnato socialmente. Dai primi anni 80 questa passione civile diventa una professione che lo porta a occuparsi di disagio e prevenzione nelle periferie milanesi, con un gruppo di colleghi e colleghi da vita a una cooperativa sociale e a un'associazione culturale. Ennio ha accompagnato i progetti educativi innovativi e sperimentali, unendo l'attività accademica con il lavoro sul campo. Qualche anno fa hai partecipato al coordinamento di un progetto nell'ambito di un tema oggi molto caldo e dibattuto, come quello della dispersione scolastica. Il progetto ha un nome molto significativo, Centra la scuola, e ha visto coinvolti un certo numero di attori, perché parliamo dell'ufficio scolastico regionale, di sei poli scolastici di sperimentazioni, tre agenzie educative del territorio, e quindi i ragazzi a cui era primeramente destinato dai 14 ai 17 anni. Come proposta dedicata poi e specifica rivolta a questi ragazzi, è stata data proprio una metodologia. Il metodo prende il nome di scuola di seconda occasione. Con così tanti attori e un progetto così complesso, uno si aspetta di non venirne più a capo. Come e quanto l'approccio collaborativo ha influito sulla buona riuscita di questo progetto? Non solo ha influito, è decisivo. Cioè, se tutti questi attori fanno ognuno il loro gioco, ognuno attribuisce responsabilità all'altro, ognuno si concentra su quello che l'altro non fa, il gioco è io perdo, tu perdi, e di mezzo c'è la vita di questi ragazzi. Qui si tratta di ragazzi e di ragazze in grave dispersione scolastica, cioè che non riescono a 15 anni ancora aver finito la secondaria di primo grado, le cosiddette scuole medie, e che hanno un'esperienza della scuola devastante, perché la scuola centra nel senso prova a realizzare l'obiettivo che ti sembra impossibile di avere una certificazione, perché per la società contemporanea chiunque non abbia nemmeno quel tipo di certificazione, la sua vita è destinata ad avere un sacco di problemi nel mondo del lavoro, cosa che era molto diverso 30 anni fa, quindi diventa non solo un obbligo, ma anche un'opportunità decisiva. L'altra cosa, c'entra la scuola perché gli studi e l'esperienza mostrano che nella vita di questi ragazzi la scuola c'entra anche nel generare una forma di disagio che va oltre la scuola. Molti di questi ragazzi poi sono gli anni in cui si giocano la vita, quindi assumono sostanze, entrano in meccanismi dove prevale l'aspetto deviante, oppure al contrario si chiudono in sé, implodono, si ritirano e anche sviluppano sofferenza psicologica, si deprimono, eccetera. Quindi c'entra nel senso che sono gli anni decisivi. Noi abbiamo fatto questa esperimentazione avendo la possibilità per fortuna di farla in contesti dove ci sono le opportunità, dove ci sono cooperative, associazioni, dopo scuola, scuole, progetti, risorse, ma dove sembra che questi rivoli, queste risorse, queste opportunità si disperdono, per certi versi si dissipano, non riescono a coordinarsi e offrire un anno o due di esperienza decisiva. Questo piccolo progetto sulla scala nazionale, ma significativo nel nostro territorio, ha dimostrato che la quasi totalità di questi ragazzi, di queste ragazze ce l'ha fatta e sono esattamente i casi cosiddetti disperati, quelli su cui nessuno avrebbe scommesso. Fra l'altro è interessante perché neanche loro avrebbero scommesso. Abbiamo fatto una simulazione molto bella in cui si provava a vedere come loro si vedevano in vista dell'esame e la maggioranza di loro diceva che sarebbero stati tutti bocciati, che loro sono degli asini, sono incapaci, non impareranno mai a scuola, si sa che loro sono così, quindi c'è anche da centrare la scuola nel punto di vista di aprire nella mente di questi ragazzi la possibilità di apprendere, qualcosa che gli sarà utile per tutta la vita, non solo per portare a casa un pezzo di carta. Ora vorrei leggervi dei frammenti del contributo di una preside, coautrice del libro Centra la scuola, interventi di sistema per la grave dispersione scolastica. Questa preside scrive, con Carlino non ce la facciamo più, preside, ci dia una mano, ci suggerisca qualcosa. Quante volte mi è capitato di sentire questo tipo di implorazioni durante un consiglio di classe, un colloquio con un docente, perché i Carlino, la scuola, ha fatico a prenderli in carico, anche quando ci prova con tanta buona volontà, non sanno stare in aula e collezionano note, conflitti, disagi e sconfitte. Allora il Carlino di turno precede, abbandona. Il passare del tempo, gli approfondimenti, i confronti con l'equip, le discussioni in collegio e nei vari consigli di classe hanno, a poco a poco, fatto emergere quella che oggi è una realtà consolidata, una certezza nel mare delle incertezze della scuola pubblica italiana. E cioè, dove noi, la scuola della prima occasione, non riusciamo, c'è una possibilità diversa, integrata con la nostra. È stato proprio il setting dell'esame a convincere anche più perplessi o critici. Ma che bell'esame ha fatto Carlino, sempre lui? Sembrava un altro. Ha portato una tesina scritta bene, ha persino risposto alle domande e poi, mi scusi, preside, questa gliela devo proprio dire perché mi ha fatto un gran piacere, ci ha salutato, ci guardava negli occhi e alla fine c'è persino sorriso. Questa testimonianza ci fa un po' riflettere che questi ragazzi, a volte, ediamo un po' troppo velocemente per scontato che sono loro ad essere sbagliati o che comunque i problemi della famiglia sono così grandi che non possiamo farci niente, che non è affar nostro in qualche modo. Invece, questa testimonianza di questo progetto, di questa preside, mi fa pensare che la passione e il vero cuore di chi educa chiama un po' a interrogarci sul meccanismo e sulle proprie possibilità. Non c'è dubbio, in psicologia sociale c'è una notte teoria, un concetto che viene chiamato errore fondamentale di attribuzione. Che cosa vuol dire? Che noi tendenzialmente attribuiamo le ragioni dei comportamenti delle persone, quindi il Carlino che va male, a qualcosa che è dentro di lui. Ha dei fattori in larga parte individuali, quindi non ha voglia, non è motivato, non è educato, non è abbastanza intelligente. Poi i termini cambiano, però il senso è quello. Cioè, noi sappiamo che questo non è che non sia vero, ma l'errore fondamentale di attribuzione è sottovalutare i fattori cosiddetti ambientali, come è impostata la lezione, come è la classe, come è lo stile di insegnamento, come è il gruppo e tutta la tendenza contemporanea di chi si occupa di questi temi, che è più dichiarata, che è praticata, è passare da forme di educazione e di insegnamento centrate su chi insegna o chi educa, cioè sugli adulti, a forme di insegnamento e di educazione centrate su chi apprende. Tendenzialmente la critica che viene mossa è ma come faccio io con ognuno di questi? È vero, però è anche l'opposto, che l'energia che viene emessa poi nel gestire i migliaia di Carlino che danno problemi potrebbe essere spesa nello sperimentare all'interno del modo di fare scuola, di insegnare, metodologie che alternano forme di apprendimento e di ambiente e in questo caso appunto l'esperienza molta che lo stesso Carlino sembra un altro, non perché gli è successo qualcosa di miracoloso, ma perché a 13, 14, 15 anni la plasticità della mente consente di apprendere magari non facendo la strada A ma la strada B e quindi un altro modo sblocca. Noi sappiamo per esempio che gli studi sull'apprendimento in quest'età si basano su un concetto di un autore che si chiama Bandura che teorizza la percezione di auto-efficacia. Questi ragazzi a un certo punto sono talmente abituati ad andare male che loro stessi configurano il proprio rapporto con lo studio con l'apprendimento a partire dal fatto che non impareranno mai. Quindi sono loro i carnefici di loro stessi, sono un prodotto del meccanismo. Noi tentiamo e non sempre si riesce di rompere questo meccanismo e anche di sfatare questa narrazione che è basata sull'errore fondamentale dell'introduzione. In questo la scuola è uno degli ultimi posti nella società contemporanea dove ci sono tutti, nella scuola pubblica. e quindi i meccanismi di apprendimento non possono essere esattamente uguali. Quindi le scuole di seconda occasione cosa sono? Un po' ce lo suggerisce anche il nome stesso l'offerta di una seconda possibilità ma in che modo e perché e chi è responsabile dell'esclusione dalla scuola dei giovani. Il documento dell'Unione Europea del 1995 da cui nascono questo tipo di interventi sostiene implicitamente che i responsabili siamo noi, noi adulti che formiamo il mondo delle possibilità che offriamo ai ragazzi. Il documento spiega appunto che è possibile contrastare e prevenire l'esclusione e l'abbandono scolastico attraverso la costruzione di reti di collaborazione a livello locale con imprese e privato sociale. Ma cosa vuol dire in pratica? Significa mettere insieme piccoli gruppi di ragazzi con piccoli gruppi di adulti in dialogo tra loro. Adulti composti da insegnanti, pedagogisti, educatori, psicologi e professionisti di imprese del territorio e in che modo stare in dialogo? Alcuni punti cardine sono che ragazzi e adulti si rapportino tra loro confrontandosi, che a primo posto ci sia un ascolto interessato delle motivazioni e degli interessi dei ragazzi e che venga cercato un'alleanza educativa con le famiglie, che il tempo scolastico sia strutturato con attività di laboratorio e momenti di confronto e riflessione condivisa. Per chi volesse approfondire l'iprase del Trentino ha pubblicato un libro scaricabile online che si intitola Ricomincio da me l'identità delle scuole di seconda occasione in Italia. Ennio, adesso mi voglio far prendere un po' per mano da te per accompagnarci in quelle che sono le caratteristiche e le capacità umane come la fiducia, l'ascolto che noi tutti possiamo mettere in campo per intraprendere quel tipo di sperimentazione necessaria, quella che hai menzionato e che ci consente di decentrare l'insegnamento dall'insegnante e dalla materia insegnata per riportarlo al ragazzo. Ecco, quali sono gli elementi essenziali per innescare il processo? Sono questi sicuramente che sono software e tratti di competenze di insegnanti che si modellano sulla fiducia, sull'ottimismo, sulla possibilità, sulla sperimentazione a delle forme hardware che sono fatte di progettazioni, sperimentazioni, un certo modo di analizzare i problemi. Quindi uniscono a questi aspetti che sono tipicamente relazionali degli aspetti didattici di tipo progettuale. Sperimentano nuove forme di comprendimento, ce ne sono tantissime, come se mancasse il coraggio di sperimentarle perché in qualche misura la reazione frontale è un'ancora a cui molti si aggrappano, una boa e poi dopo si scopre in realtà che fare esercitazioni con compiti di realtà alternato a alcuni momenti è una cosa che si può fare, che tanta letteratura mostra. Non è che si può fare solo in Svezia, si può fare anche da noi o in Finlandia. Credo che la scuola abbia tutto questo, questi ingredienti. A volte manca il coraggio di provarci fino in fondo e di metterlo a sistema perché il tema della dispersione è un tema strutturale della nostra scuola, non è dell'altro giorno. Questi sono gli anni buoni ma io credo che la scuola abbia tutto per far questo e sicuramente il ruolo del dirigente, di un gruppo di lavoro. Io ho visto che le scuole che sperimentano di più hanno un gruppo di lavoro stabile che fa cose, che questo sia appunto cruciale, questo gruppo coeso, sostenuto che ha non solo quelle attitudini che abbiamo visto prima ma anche una certa pianificazione. Ecco, Ennio, tu hai citato il compito di realtà come pratica educativa e collaborativa. Potresti spiegarci meglio di che cosa si tratta? Il termine compito di realtà indica una metodologia di apprendimento strutturata il cui senso è quello di far misurare le persone in questo caso dei ragazzi a scuola con la soluzione di un problema che è un problema reale che può essere hai questi soldi devi vivere un mese piuttosto che c'è questa situazione tu che cosa faresti e dove le conoscenze che possono essere matematiche logiche statistiche letterarie emotive vengono messe al servizio e al confronto con una situazione realistica perché è questo? Perché molti ragazzi che fanno fatica all'apprendimento fanno fatica soprattutto per l'astrattezza e quindi non capiscono il senso di imparare e non vedono il collegamento con la loro vita è il modo in cui per esempio Don Milani ha fatto la scuola di Barbiana cioè quelle che noi chiamiamo competenze si misurano con una situazione reale di cui si percepisce anche il valore dell'apprendimento quindi imparare quella cosa lì mi è utile serve nel mondo questo è il compito di realtà quindi possiamo dire che alla luce dell'esperienza progettuale la migliore prevenzione per questi ragazzi è un'educazione che sa autosservarsi interrogarsi dar fiducia mettere coraggio proporre strategie sperimentali personalizzare il percorso di ogni ragazzo qual è però oggi secondo te la domanda educativa che è necessario porsi io vedo due temi centrali uno è tantissime classi italiane dalle periferie esplodono perché i ragazzi non obbediscono più è molto semplice perde la scuola ma perdono anche i ragazzi perché questi ragazzi che non obbediscono più che trasgradiscono che rompono che non stanno le regole sono quelli che i francesi chiamano le trasgressioni inefficaci non è che producono qualcosa un tema è questo come facciamo a rifondare un'autorevolezza che non è basata su come si pensava qualche anno fa sul recupero di un principio paterno regolativo perché questa è la società che abbiamo dietro le spalle quindi la prima è una pedagogia autorevole basata sulla collaborazione anche con i ragazzi sono al tuo fianco sono più grande di te un po' ti posso dire com'è un po' no perché tu vivi in un mondo che non è stata la mia adolescenza questo è molto diverso dalle generazioni precedenti in cui i padri in larga parte replicavano le forme educative ricevute come figli l'altra cosa secondo me è che non è facile da spiegare è che il famoso psicologo americano Howard Gardner chiama intelligenze multiple è che la scuola l'educazione scolastica l'istruzione è in larga parte fondata sulla valorizzazione di un'intelligenza di tipo logico razionale cognitivo astratto ci deve essere però per molti ragazzi delle ragazze che trovano tutto questo molto faticoso è estremamente noioso noi sappiamo che nell'esperienza umana abbiamo bisogno di altre intelligenze alcuni di questi ragazzi per esempio hanno fantastiche intelligenze di tipo emotivo o di tipo creativo o di tipo fisico-motorio che si alimentano di un'altra quindi serve secondo me una pedagogia che muove i corpi non solo le menti che muova l'immaginazione che si fondi anche sull'arte sulla tecnologia sul digitale su questo bisogna avere più coraggio non è solo qualcosa che si fa il pomeriggio extrascolastico come si diceva anni fa in cui la mattina devi fare le robe serie sappiamo che la società contemporanea ad alto tasso di innovazione di creatività pesca dappertutto e quindi alcuni che hanno intelligenze di quel tipo artistico espressivo possono trovare un meccanismo di autorealizzazione quindi come educatori dobbiamo fidarci di questo che le intelligenze multiple del ventunesimo secolo in una società dove si tratta di collaborare fra adulti e ragazzi senza rinunciare a un ruolo adulto ma senza replicare sono delle forme che vanno sperimentate per tentativi errori non è che uno lo sa già se no replica l'insegnante che aveva avuto da piccolo però quello è degli anni 50 degli anni 60 non ha niente a che fare con questi ragazzini con lo smartphone in mano allora come rendere la scuola già una scuola delle opportunità delle occasioni delle possibilità per tutti qual è un piccolo primo passo che possiamo compiere Ennio ci suggerisce due possibilità una di portare la realtà della vita nel modo di fare scuola e l'altra di valorizzare i tipi diversi di intelligenze presenti nei ragazzi che abbiamo di fronte ma noi come insegnanti come genitori che cosa possiamo fare potremmo proprio partire dalla collaborazione andando a cercare una realtà con cui è possibile collaborare scovarla nel nostro territorio oppure a livello regionale o nazionale una realtà che lavora su qualche intelligenza o talento che scopriamo nei ragazzi o nei bambini che abbiamo di fronte qualcosa che li appassiona che cattura loro interesse proviamo a contattare questa realtà a creare un ponte di collaborazione e a presentarli alla scuola che frequenta nostro figlio o figlia oppure se siamo degli insegnanti proprio nella scuola in cui stiamo lavorando ecco questo un primo passo che possiamo sin da subito mettere in azione grazie Ennio grazie per averci accompagnato in questo dialogo esplorativo troviamo molti dei tuoi contributi e del tuo lavoro sul sito dell'organizzazione che hai fondato metodi.it e sul tuo blog sviluppo di comunità grazie per averci fornito gli ingredienti per iniziare a praticare un po' di collaborazione nelle nostre vite grazie grazie a voi potete continuare ad esplorare insieme a noi gli orizzonti della relazione educativa con i prossimi episodi su www.edunauta.it un progetto di Generous Foundation post-produzione audio di Era Zero